Le ballerine della Donbass opera vanno pensate a creare una zeta, una zeta in sostegno alla invasione russa, per quello che sta succedendo attualmente parlando proprio in Ucraina. La zeta vi ricordo che è il simbolo dell'invasione russa in Ucraina, un sostegno alle operazioni militari di Putin durante un spettacolo di teatro all'opera proprio di Donetsk, le immagini sono veramente emblematiche e si vedono queste ballerine che formano una zeta, poi una V, mentre vanno a danzare sulle note della musica di Le Bayadere, non so qual è la corretta pronuncia, mi scuso di ciò. Una simbologia ormai nota a tutto il mondo, a tutto il nostro pianeta che è apparsa all'inizio proprio quando c'era questa guerra, quando c'era questa guerra, nelle fasi embrionari. Una zeta che è stata fatta con i corpi di queste giovani ragazze, di queste giovani donne, che ovviamente resterà nel quale di tutti, di nessuno e scuso. Il video termina qua, iscrivetevi al canale e al narratore italiano commentate. Un saluto nei cari e al prossimo video.